Ottima vittoria del Castelnuovo che con una grande prestazione spugna 4-1 il terreno dell'Apriglia. Già dopo 20 secondi ci prova sbarbati dai 20 metri e Frasca appara in tuffo. L'Apriglia prova a rispondere al decimo con la penna che riceve al limite e conclude di poco fuori. Il Castelnuovo pian piano alza i ritmi e il baricentro al sedicesimo su cross di Morganti sbarbati sfiora soltanto di testa. Poi al ventunesimo Di Ruocco viene lanciato in aria sulla sinistra col portiere in uscita mette in mezzo per la corrente De Gidio che apporta Sguarnita in sacca lo 0-1. I padroni di casa non riescono a reagire e al trentaduesimo arriva il raddoppio del Castelnuovo. Punizione magistrale di Loviso dai 20 metri e 0-2. E ancora il Castelnuovo a provarci nel finale di tempo. Al quarantunesimo Sbarbati viene lanciato in aria, prova a scartare il portiere che però non abbocca e lo ferma. A inizio ripresa il Castelnuovo controlla la gara e l'Apriglia riesce a rendersi pericoloso solo al tredicesimo con un cross di Aglietti e deviazione ravvicinata di Noman su cui Natale compie un grande intervento. Il Castelnuovo riprende in mano il pallino del gioco e triplica azione insistita a centroare a svirgola a Sossai ed è lesto da due passi Emili a intervenire per lo 0-3. Al ventisettesimo i padroni di casa accorciano, Bosi viene atterrato in aria e Noman realizza il rigore dell'1-3. Al trentanovesimo il Castelnuovo chiude virtualmente il match, lancio sulla destra per Degidio che sull'uscita del portiere dà in mezzo per Fagioli che si districa e insacca l'1-4. Le ultime occasioni al quarantacinquesimo per l'Apriglia con una punizione alta dal limite di Olivera e al quarantottesimo per il Castelnuovo con Porrini che serve a due passi dalla porta a Basilico che però sbilanciato svirgola.